Una delle più belle definizioni di liturgia risale a Pio XII ed è stata ripresa dal Vaticano II. La liturgia è l'esercizio del sacerdozio di Cristo. Tre parole che dicono tutto il mistero e la forza della liturgia, che non è solo un insieme di riti e di preghiere. Esistono riti e preghiere che non sono la liturgia, ma quando celebriamo la liturgia è Cristo stesso che prega, che adora, che offre, che benedice il Padre, la Chiesa, il mondo. Per questo la liturgia è nutrimento anche per la nostra preghiera personale. Gesù stesso insegna ai Suoi discepoli che la preghiera non deve essere un fiume di parole, un elenco di richieste, ma avere nel cuore le sue parole, la sua preghiera, il suo unico e perfetto sacerdozio. Bellissima l'orazione liturgica della sesta domenica del tempo ordinario, antichissima, la troviamo già nel sacramentario gelasiano, è una vera professione di fede sulla quale si fonda la nostra supplica. Ecco come al solito una traduzione letterale. O Dio, che dichiari di rimanere nei cuori retti e sinceri, dà a noi con la tua grazia di essere tali che tu ti degni di abitare in noi. L'audacia dunque della nostra preghiera ha il suo fondamento in una dichiarazione solenne di Dio. Tu dichiari di rimanere nei cuori retti e sinceri. Dio ha promesso di abitare nel cuore, anzi letteralmente proprio il petto, di chi è retto e sincero. L'allusione è a molti brani delle scritture, penso in particolare al Vangelo di Giovanni, il verbo menein, rimanere. È un verbo chiave del quarto Vangelo e significa prendere dimora, fondare un legame stabile, abitare, rimanere. Ricordate proprio nelle prime pagine di Giovanni quando i due discepoli cominciavano a seguire Gesù, Gesù si volta e gli domanda ma che cosa state cercando? Maestro dove abiti, dove dimori, dove rimani? Nei grandi discorsi poi della cosiddetti della Dio, alla vigilia della sua passione Gesù ci lascia una promessa che è in fondo il cuore del cristianesimo. Se uno mi ama osserverà la mia parola e il padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. E poi ancora, rimanete in me e io in voi. Questo dunque è il disegno di Dio, che noi, creature piccole e fragili, impastate di peccato, possiamo essere la dimora di Dio. Viene da pensare alla meraviglia di Re Salomone quando consacrò il Tempio di Gerusalemme alla gloria di Dio ed esclamò ma è proprio vero che Dio abita sulla terra. Lui che è più grande dei cieli sceglie come casa un tempio costruito di pietre. La meraviglia di Salomone non è niente di fronte allo stupore di un cristiano. Dio sceglie come sua dimora, come sua casa, il nostro povero cuore, il nostro povero petto, la nostra vita. E la nostra preghiera dunque sta tutta qui. La promessa di Dio è grande ma l'immensità dell'amore di Dio non può entrare nel cuore dell'uomo se Dio stesso non ci desse la grazia di accoglierlo. In fondo noi oggi chiediamo un cuore come quello di Maria, la donna che più di tutti ha fatto spazio nella sua vita al Signore diventando anche fisicamente la dimora di Dio. Il cuore retto e sincero, come dice la preghiera, è in fondo proprio il cuore di Maria. Retto e sincero significa non avere altro desiderio se non di essere una cosa sola con il Figlio di Dio venuto tra di noi. Per essere cristiani dunque bisogna avere un grande desiderio. È necessario desiderare con tutte le nostre forze niente meno che di diventare il luogo in cui Dio stesso abita per potere noi stessi abitare in Lui e avere in Lui la sicurezza, la gioia, la misericordia e la pace. Grazie a tutti.